...della felicità e il piacere che tutti si possono scoprire in tavola. Buon appetito, come qualche cosa. Ecco, e qui che vorrei fare il mio secondo bagno? Sì, va bene. Allora andiamo a bruciare. Bene, per il fatto basta un piccolo tu vuole scarico. Questo. Come sai, è facile trasformare il mio secondo bagno.